ciao ragazzi come va tutto bene spero di sì per tutti dai niente ho deciso di fare sto video perché dovevo prendere un paio di pantaloni e il risvoltino no quindi vediamo un po cosa ne salta fuori dico subito che il video è doppiato perché l'audio è andato a pallino quindi speriamo bene allora vediamo un po prima cosa dobbiamo prendere la misura quindi è importante come dire mi viene la parola sincronizzare ma non è la parola giusta mettere il pantalone che ho di campione quindi già con l'orlo fatto con l'altro a cui l'orlo lo devo fare in modo che siano pari sia la cintura e soprattutto lì al cavallo perché è da quel punto lì che si misura la lunghezza della gamba questi pantaloni che ho di misura in effetti erano gli ho fatti una volta scorsa un po lunghetti e quindi facendo l'orlo adesso su quelli nuovi lascerò un pochettino in più di stoffa circa un centimetro serve ecco questo qua che è un gessetto da sarta se non lo sia va bene anche una matita tanto questo è l'interno del pantalone quindi qualunque cosa si segni rimarrà comunque all'interno quindi traccio una linea abbastanza cioè possibilmente dritta ma poi comunque prenderemo delle misure allora ho fatto il segno rivolto il il pantalone in modo che il risvolto che andrò a fare sia pari appunto alla misura che ho preso ecco quindi adesso cerco un attimo di sistemare la cosa di tenerla possibilmente il più dritto che a occhio si può si può vedere controllo dentro dove appunto ho fatto il segno in precedenza vediamo un attimo ecco ok adesso rimetto sopra il pantalone di prova cioè di prova insomma quello che avevo già con l'orlo fatto devono essere pantaloni dello stesso tipo e possibilmente della stessa foggia se sono della stessa marca ancora meglio come si vede ecco ho lasciato circa un centimetro perché quegli altri mi erano venuti un po corti adesso prendo la misura quindi ho fatto circa 11 cm e quindi controllo che anche dall'altra parte ci siano 11 cm presupponendo che la fabbrica abbia fatto i pantaloni dritti quindi che l'orlo vecchio sia fatto a pari da una parte all'altra ok sistema un po ecco vediamo un attimo riprovo le misure finché da una parte all'altra e al centro ho gli 11 centimetri che nel mio caso sono quelli che mi servono per far l'orlo allora l'orlo sarà alto due centimetri quindi misuro 4 centimetri perché due saranno l'orlo e due verranno ripiegati sotto si vedrà dopo in che modo quindi segno i 4 centimetri da una parte 4 dall'altra e poi ecco sempre con mio gessetto perché con la matita purtroppo sul blu è difficile da vedere e faccio dei trattini poi li unirò in modo che quando taglio andrò spero abbastanza dritto quindi ecco ok forbice il jeans è un po duro come come stoffa quindi magari ci vuole un attimo per creare una feritoia dove cominciare a tagliare in effetti fa resistenza e quindi niente taglio la mia stoffa e lascio appunto questo bordo di 4 centimetri la stessa cosa andrà fatta da sull'altra faccia del calzone ecco acceleriamo un po quindi 4 centimetri 4 centimetri 4 centimetri 4 centimetri e riprendo il taglio è ok a questo punto ecco qua si vede praticamente ho piegato sotto due centimetri di stoffa cioè l'ho ripiegata su se stessa e adesso con gli spilli devo praticamente fermare il bordo in modo da come dire da poterlo poi cucire gli spilli mi servono per tenere ferma la stoffa intanto che viene cucita ci sarebbe un altro metodo che sarebbe quello di imbastire come si dice cioè con ago e filo bianco da un filo insomma specifico per quel lavoro a mano si ferma si da una prima cucitura si ferma l'orlo nella sua posizione poi lo si ricuce con con la macchina da cucire e poi si leva questo filo bianco appunto da da imbastitura ecco qui da questa parte dove c'è quella cucitura spessa e ribattuta praticamente poi bisogna un po sottigliare la stoffa dei due centimetri che vengono ripiegati all'interno perché sennò la macchina da cucire non ce la fa praticamente a passare sopra quasi un centimetro e mezzo di stoffa perché praticamente lì ripiegata una volta in quattro un'altra volta in quattro quindi diventa una cosa abbastanza ostica data da cucire ecco e quindi niente si procede in questo modo cercando di andare il più dritto possibile e restando paralleli all'orlo cioè all'orlo alla alla misura che si è che si è presa prima ecco volendo si può dare un colpo di ferro da stiro prima in modo da fissare bene la misura e poi mettere gli spilli ecco è ok ho ciò che pungono niente adesso bisogna praticamente riportare la misura che si è fatta sull'altra gamba volendo in questo momento o anche dopo insomma quando si sono fatte fermate le due diciamo si è riportata la misura sull'altra gamba si può procedere a una prova cioè indossare i pantaloni così come sono al contrario e vedere se effettivamente la misura è quella giusta ecco giusto per se uno deve fare dei piccoli come dire dei piccoli aggiustamenti per carità sarebbe molto meglio farlo prima di tagliare la stoffa perché uno appunto poi dopo di quei quattro centimetri che si sono lasciati se ne deve togliere diventa difficoltosa la cucitura e quindi appunto anche sull'altra gamba si ripete le stesse operazioni fatte prima quindi la misura la piegatura dell'orlo la posizione degli spilli e si cerca appunto di andare il più dritto possibile ecco e fino qui diciamo che non è che c'è grossa scienza da conoscere più che altro dopo con la macchina da cucire perché vabbè lì ognuno insomma ed eccola qua quindi questa purtroppo non posso dare come dire suggerimenti perché a seconda della della specifica macchina da cucire ognuna c'è il suo come posso dire vabbè metodo di funzionamento è sempre quello un ago che va su e giù però insomma infilare il filo e queste cose qua e poi niente bisogna provare magari appunto prima di mettersi a fare una cosa su un pantalone questi qui per carità sono pantaloni da 10 euro e quindi anche se combino macelli non rovinato pantaloni armani su della stoffa diciamo su dei ritagli di stoffa uno può praticamente mettersi e far delle prove cercare di capire la macchina da cucire come funziona ecco e qui andiamo e cominciamo a cucire in corrispondenza delle di queste cuciture che ci sono sulla sulla gamba del jeans e io faccio un avanti e indietro con la macchina da cucire per fermare il filo in modo che i punti non si disfino niente ecco qua il lavoro lavoro chiamiamolo così finito discreto non è certo un'opera d'arte però dai insomma i pantaloni sono fatti me li indosso e a posto così ciao a tutti e grazie della visione ciao ciao ciao